Si sa benissimo che alla fine si ha sempre la voglia di vincere, è vero che era la prima partita e molti giocatori, a parte me, è l'inizio di stagione quindi penso che alla fine il ritmo sia un po' calato dopo un buon primo tempo, però ripeto adesso da domani dobbiamo dare con la testa giusta per la prossima partita perché faranno punti per la competizione più bella che sarà poi il mondiale quindi adesso già da domani con la testa giusta a vedere gli errori che si sono fatti cercare di migliorare per vincere la prossima partita